un minuto con padre pio dei luoghi del convento ci troviamo proprio accanto al piccolo refettorio il primo refettorio di questo convento questo è il chiostro il chiostro qui una volta possiamo immaginare che era pieno di fedeli soprattutto nel primo periodo qui venne proprio assaltato dalle folle che volevano incontrare padre pio parlare con lui confessarsi con lui tanti erano i malati padre pio spesso la conosciamo tutti la sua frase che diceva sempre in ogni uomo c'è gesù ma nel malato c'è gesù due volte proprio per questo c'era un prete don pasquale cantalupo che era malato lui ha raccontato questa sua testimonianza padre marcellino e assinzanino don pasquale diceva padre marcellino mi parlava di un incontro un incontro importante che ebbe con padre pio lui si confessò dopo la confessione lui era malato quindi il padre al termine della confessione lo confortò e poi lo congedò ma mentre si stava alzando che stava andando via don pasquale giustamente ma padre la penitenza allora padre pio subito gli rispose non ti basta quella che hai ne vuoi un'altra riferendosi chiaramente alla sua malattia ma in questo grande amore per i sofferenti padre pio accomuna anche tutti coloro che ai sofferenti e meno ai malati prestano assistenza prestano cura ad esempio maria teresa brevi un'altra testimonianza che è stata raccolta da padre marcellino essenzarino il suo libro il padre testimonianze racconta che la mamma si era confessata da padre pio il quale al termine dell'accusa delle delle sue colpe le disse non ti do la penitenza perché tu l'hai già fatta perché padre i tuoi peccati ti sono rimessi perché da 23 anni tu hai un marito inferno sulla carrozzella quindi tu hai fatto già un lungo cammino faticoso ma sta serena tu farai una morte tranquilla serena e proprio fu così maria teresa racconta che la mamma ebbe un infarto e lei racconta che ebbe un infarto nel pomeriggio 15 e 30 e morì alle 20 e 30 quindi fu immediato ecco quella morte serena e tranquilla di cui parlava lo stesso padre pio però la mamma prima di morire raccolse tutti i figli attorno attorno al suo letto e disse vogliatevi bene e vogliate bene anche ai due gemelli dice madre maria teresa si trattava di due ragazzi che mamma per il grande amore erano figli della vicina aveva tenuto in casa per circa 14 anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti